Sono le due del pomeriggio di una domenica dove è tutto vuoto perché la gente è a pranzo e allora io ho deciso che invece di pranzare vado invece di pranzare a casa con lei vado a mangiare una brioche congelato. Se trilla mi fa, non c'è un'anima. Stamattina ero tutta un po' raffreddata, non lo so, però mi sono piazzato una protezione minerale 50 plus. Andiamo, trilla. 50 plus. Qui sono all'ombra della chiesa di San Domenico. Trilla, amore. Ci sono i colombi e c'è qualcuno al bar. Che strano. Allora, due scelte. Bar Roma, che fa il miglior gelato con brioche, però ha la veranda chiusa. E poi c'è questo nuovo bar di cui mi sono innamorata che invece devo controllare se fanno la brioche con gelato. Ecco il barrome laggiù e qui invece c'è il bar che piace a me. E c'è teatro. Ok. Tato per la prima. Però non hanno la brioche, prendono il cornetto integrale. C'è fior di latte in un cornetto vegano, fior di latte e pistacca. Questa è la piazza del mercato vecchio. Qui c'è il mio parrucchiere. hanno fatto questa specie di fontana. E' Grilla che ha difficoltà. lì alla biblioteca nazionale che era l'ex palazzo dei baroni Nicotera. una noia mortale. Lassù è... Lassù, questo qui, è tutto magolà, dove abitano i miei amici. Qui c'era il negozio del nonno, nonno Carmine. Non so quale bottega fosse, credo che sia la quarta. Un altro Pincere. E' pieno di Pincere qui. Pincere Chihuahua. Quello è un Pincere. Vediamo. Che cosa sei? Contro sole? No. Chi siete? Sì, un un Pincere. No, sono uno, uno un Pincere. No, Chihuahua. Chihuahua pelo corto. Adesso, giriamo. Il blog della domenica. Giriamo di qua. Allora. Se non mi strattona. Ho messo tanto di quella protezione minerale oggi che ho la faccia bianca pur massaggiandola per buoni dieci minuti. Ma preferisco. Perché ieri sera ho fatto il peeling all'acido, quello Alphi Roxy di color vino di The Ordinary. The Ordinary. E questo è. Mi avete detto fai un blog per la tua città. Questa era tribunale prima, questo palazzo qua. Poi è diventato, è diventato biblioteca, biblioteca comunale del palazzo di Nicotera. Ah, potremmo andare dai vicoli o di là. Potremmo andare dai vicoli, va. Perché di qua si va a casa mia. Così tolgo gli occhiali. Perché nel vicolo. C'è il silenzio tombale. Si spenze a guarda tubare. Piccoli. C'è Trilla che blocca ogni tanto. vedete un piccolo è abbastanza sporco perché guardate qua perché qui ci sono tutti i bar della no è lei che decide quando ci sono tutti i bar ha detto che arriva uno laggiù in fondo no è entrato in una casa no sta avvenendo faccio finta che riprenda la parte rotta di queste case piccioni qui piccoli come i aia qui viene contro mano come i bassi napoletani si qui è pieno di bar locali per cui colombia questo è il silenzio eccolo faccende domestiche un altro piccolo è una casa abbandonata mi dispiace tanto era la casa di amici di amiche questo cancello qua vedete come abbandonata che peccato una casa odirci è caduta il mio cerchietto è una casa è una casa ecco questa questa qua questa è tutto abbandonato dietro casa mia questa casa è abbandonata ci abitavano delle persone che conosco e niente adesso per discrezione ecco questo c'è un locale che mi fa dannare la notte che si deve fare adesso vi saluto perché sono quasi arrivata buona domenica l'outfit nel giorno un bivino di piume di omicron la mia gonna di sisley la sciarpa la collana la sciarpa di the queen è questo il viso si vede più dalla luce della cucina e ho il rossetto e ho il rossetto Shue Mura con sopra violin di Chanel mascara brush un po' perché veramente questo di Avene è forte l'espf l'espf infatti si vede ancora sulle sopracciglia l'espf 50 minerale e poi sugli occhi di reggiarci un'altra Grazie a tutti.